Jacopo cosa stai facendo? papà ammazzo le mosche ammazzi le mosche e come procede? bene papà ho già ucciso tre mosche maschi e due mosche femmine come fai a sapere se la mosca è maschio o se è femmina? semplice papà tre erano sulle lattine di birra due erano sul telefono